E' bella a tutti ragazzi, sono Vimeth, bentornati in questo nuovo video, oggi sono con M98 E faremo una Bad Wars, io e lui contro un certo Teard Life abbiamo per ora contro Che è un gambler, praticamente una sorta di admin Comunque questo è un server tedesco, quindi andremo a sfidare i cruci Faremo in vedere insomma un po' chi comanda, porteremo in alto la bandiera italiana Ok vi spiego brevemente un po' come funziona Il bronzo serve per comprare le cose basi tra cui blocchi e un'armatura che sarebbe il metto, pantaloni e stivaletti che sono però abbastanza scarsi Per migliorare l'armatura ci serve del ferro che appunto ci permette di comprarci una maglietta di maglia Che può essere più o meno forte in base a quanto ferro avrete preso L'oro serve per prendere arco e spada più forte e potenziata Ora facciamo scendendo una spada di ferro Dobbiamo fare prima il fondo Facciamo un piccone di legno che si fa con il bronzo Qualcuno ci sta altro Eccoli che stanno salendo Riesce a salire Sì ora ci riprovo Aspetta Io sto salendo dall'albero Sali parecchio, sali parecchio Non ho finito i blocchi Guarda riprendere Ah hai preso l'oro per caso Sì ne ho solo uno Se vorreste giocare questo è un server gratuito Ovvero non c'è bisogno che avete Minecraft Premium per giocare in questo server E inoltre vi da una skin ogni volta che entrate È sempre diversa No No Ci potrete fare finta di avere Minecraft Premium Eccoli qua Possiamo farci angrar Non ci arrivo Cavolo Ma è rimasto solo lui Guardalo Piccolo È femmina Ah è femmina Non ti vergogni stiamo giocando contro una femmina Se perdiamo poi Sì è vergogna abbastanza È vero che non perderemo Che dici la trolliamo? Troppo tardi Ah va però potevo registrarlo Non lo potevi dire che lo registravo Così che è stato registrato Allora ne facciamo un'altra Qui siamo in squadre da Tre Ok sono io M E un altro tizio Che sembra abbastanza scarso Ok questa sarà più tosta Questa sarà tosta Contro i gialli soprattutto Sono forti i gialli Sì sì sono belli forti Allora io devo restare dietro con l'arco Ok Allora qui Da questo piccolo buchino Esce tutto Bronzo Ferro E oro Se questo si deve Moprendere magari Che poi deve andare là E si deve riuscire E lo credo bene Ok piccone Spada E blocchi Andiamo Facciamo questo pond Almeno sta proteggendo Eccoci qua Ti posto un po' di ferro Attenzione Un po' di oro Mentre che non c'è nessuno Eh stanno Quei maieretti Dei No Ho messo Endercess Speriamo che non la spacca No Tengo un cuore e mezzo Aiuto 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 Sto morendo Che faccio Ormai sono Sei ucciso Si Però non hai cuori Eh ne ho solo due Vediamo se riesco a rigenerare salute Guardalo che prova a spaccare Ce ne metto un'altra Andiamo 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 No Sto già morendo Ecco Lo sapevo Siamo a venti Vado giusto a uccidere un blu Per togliermi Senza niente a mano Ho fatto perdere l'arco al blu A mano Non ci credo Nabi Che nabi Sono navissimi Sono navissimi A mano Proprio Proprio Eccolo guarda Mi butta giù Mi butta giù Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Guardate i gialli Come si sono Protetti i ponte Basta E' durata fin drop Questa partita Basta Basta Sì Sì Mamma Tutti con l'arco Tutti con l'arco Tutti con l'arco Tutti con l'arco Uno ucciso Ecco l'altro Già Oddio Oddio Hanno l'handelstone pure Hanno l'handelstone Ah porca miseria Questa è la spada ancora Spada Ok Ok Sono tutti senza niente Andiamo subito Dai 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 Andata Gliel'hai fatto Opposto Sì Eccolo là L'infame Guarda come lo ammazzo Pezzo di merda Ti ammazzo Ti ammazzo No Non ci credo No Ha ucciso pure me Pensavo Ti è ammazzato Ma come ho fatto Chi aveva in mano No Quello Mi permette di ucciderlo Io do uccidere quello Sto tornando Merda Dovrebbe essere ancora là Sì Eccolo che ha ripreso l'arco Rp sta là Ok 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 Tocca il blu Tengono l'arco questi Quando pare Wow Si sono fatti una bella costruzione Qua ci vogliono un bel po' di pecro di TNT Che ne dici Li trolliamo così Eh Mi sa di sì Ecco sali 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 Oppure riprendi da là 2-6 Eccoti Vai am Vedi Eh Sì Così va bene Una alla volta No Ancora Ancora Oye Che è successo qua Guardalo 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 Guarda quando ne abbiamo incisi No mi sono sbagato No 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 Distrutto Bravo No mi si è bugato anche a me No Ok Eccolo Guarda che si nasconde Andata Oh Nessuno ha fatto il tire Fin troppo facile Eh sì ma è stata divertente Sono state bellissime Comunque Se volete sfilarci Sapete dove trovarci Scrivete nei commenti Se volete sfilarci Comunque Spero il video vi sia piaciuto Lasciate un like Commentate Condividete Se vi piace questo genere di video Italia contro Germania Potremmo fare anche tipo Italia Contro Francia O quant'altro Comunque Fatemi sapere cosa ne pensate Noi ci vediamo con un prossimo video Arrivederci Buona serata Arrivederci Buona serata Noi ci vediamo con un prossimo Noi ci vediamo con un prossimo video E bella a tutti